Benvenuti oggi, è un momento importante perché è il momento in cui ci presentiamo con questa iniziativa fondamentale per il nostro piano strategico come Politecnico di Torino, ma è davvero un'iniziativa interuniversitaria legata ai lavori di un gruppo di professori delle due università, ma anche con un afflatto internazionale, che stanno pensando a come risolvere sul piano della formazione e della ricerca questo incrocio sempre più importante tra tecnologia e società. In particolare per il Politecnico di Torino questo elemento è essenziale come per tutte le grandi scuole tecnologiche mondiali. Nel primo mese del mio rettorato ho avuto l'opportunità di andare a un convegno all'università più importante cinese, la Qinghua, che parlava esattamente di come proiettare l'insegnamento nelle discipline ingegneristiche nel futuro. Erano presenti speaker da tutte le più grandi università tecniche mondiali. Assolutamente cardinale era dotare gli ingegneri del futuro di qualche strumento in più rispetto alle scienze dure che, come sappiamo, diciamo così, costituiscono i fondamenti acquisiti nei primi anni dei percorsi formativi dell'ingegneria, sui quali noi tradizionalmente costruiamo una professionalità con insegnamenti tecnologici negli anni successivi fino a riuscire a formare un ingegnere. Se posso dire, secondo una ricetta tradizionale ormai, come dire, datata a 160 anni quanto la età della nostra università, ma casualmente molte delle università tecniche più importanti sono nati proprio nella metà dell'Ottocento. Oggi questo non è più sufficiente. Proprio quell'incrocio tra tecnologia e società che fa sì che le nuove tecnologie modifichino radicalmente le dinamiche sociali, ma anche i disagi di una società che ha perso molti punti di riferimento pongono esigenze di nuove tecnologie, fanno sì che il nostro laureato ingegnere, allo stesso modo di quello che invece già capita per i nostri architetti, debba avere per forza una forte base di conoscenza nelle scienze dell'uomo della società pertinenti. Il nostro Ateneo aveva già avuto un'esperienza pionieristica una ventina di anni fa, abbandonata e tutto sommato possiamo dire oggi fu un errore, ma con forza vuole riprendere questo cammino e lo ha fatto insieme all'Università di Torino. A Torino abbiamo la fortuna di avere due università complementari tra di loro e che, su questo come su altri terreni di impatto sulla società, hanno deciso di allearsi profondamente. Costituiremo un centro di ricerca congiunto su queste tematiche e già questo gruppo di lavoro che oggi si apre al confronto pubblico sta lavorando su come rendere più umanisti gli ingegneri e più tecnologici gli umanisti. questo serve su diverse direzioni. L'ingegnere che risolve tecnologicamente un disagio prima di tutto deve conoscere bene quel disagio e conoscere bene la dinamica della società che può una tecnologia rifiutare e quindi diventano essenziali discipline come l'etica, come la sociologia, come la psicologia, come la giurisprudenza, oltre che l'economia. Sempre di più si chiede all'ingegnere di progettare qualcosa in ragione non solo di un business plan ma anche di un'analisi di impatto sociale. Le stesse banche oggi, in un momento di crisi profonda sociale, concepiscono come uno dei parametri con i quali indirizzare finanziamenti e iniziative produttive il fatto che quell'iniziativa produttiva possa radicare posti di lavoro in modo efficace, possa far crescere la qualità della vita della società perché ovviamente questo torna in termini positivi a quella banca, a quella iniziativa. Quindi l'impatto sociale è un qualcosa di sempre più importante. Un'altra cosa importante per cui è necessario questa riforma del nostro percorso di formazione è che l'ingegnere deve, per forza di cose, imparare a dialogare con altre discipline. Il progresso oggi non è tanto portato avanti in modo specialistico in una singola disciplina ma deriva da un lavoro di concerto di diversi professionisti. L'ingegnere umanista saprà colloquiare meglio, comunicare meglio, capire meglio le ragioni degli altri e approfondire quelle conoscenze che oggi sono essenziali per indiziare la sua opera di creazione. Io parlo in effetti con un motto che sembra un pochettino così, prima o poi si consumerà anche esso ma adesso è abbastanza efficace, di passare da un ingegnere nerd a un ingegnere creativo. Un ingegnere rigido, affidabile ma tutto sommato incapace di dialogare con altre discipline e che necessita una volta laureato di un periodo di acclimatamento nella società perché comunque deve per forza conoscere la società per poter agire nel mondo di oggi. Magari era meno così un tempo. Quando l'ingegnere veniva preso, messo in un comparto della Fiat a lavorare, a fare le sue cose ci pensava la Fiat in questa città a determinare gli esiti della società. Ma non è più così. Non è più così in tutti i paesi sviluppati, come la Francia, come la Svizzera, da cui ospitiamo eminenti oratori oggi. E in tutti questi paesi ci si sta interrogando su come riuscire a superare questo unpass. E' indubbio, e lo dicevo con i nostri ospiti poco fa, che proprio nella frangente attuale il ruolo delle università che si declinano verso l'impatto sociale sarà fondamentale per una ripartenza. Esistono già esempi chiari di questo in città come Pittsburgh, in città come Berlino e grandi città come Londra, come Parigi, stanno puntando molto su questo. Quello che anche a Torino cerchiamo di fare, cioè mettere insieme le università, le discipline, gli elementi fondamentali, le missioni di un'università, che sono la formazione, la ricerca applicata, il servizio e il reskilling, la formazione continua, in modo da diventare tutto questo catalizzatore di sviluppo e attrattore di imprese. Il concetto della collocazione di università, imprese, enti territoriali e corpi della società tematico sta oggettivamente prendendo piede in tutto il mondo. Ed è per la massima efficacia di questo che occorre questa ibridazione. Il tecnologo umanista, l'umanista tecnologico, che vivranno e daranno un impulso a queste piattaforme. E con quindi grande piacere che do inizio a questi lavori e che seguirò con attenzione durante l'intera mattinata per poi trarre qualche conclusione alla fine in una tavola rotonda, con anche il rettore Iani, che saluto, il rettore dell'Università di Torino, intorno a mezzogiorno l'una di questa mattina. Vi ringrazio molto e benvenuti ancora da parte mia. Grazie al magnifico rettore, chiaramente non soltanto per queste parole introduttive a questo tema così importante, ma anche e soprattutto per aver messo questo tema come uno dei pilastri della sua azione di rettore, prima nel programma elettorale, poi nel piano strategico e per il sostegno fondamentale che sta dando l'attività di questo gruppo di studio. Chiederei alla regia, per favore, di avere le mie slide. Perfetto. Allora, alcune parole di introduzione al tema generale, quindi complementando quello che avete sentito dal magnifico rettore e alcune parole invece più specifiche su questo gruppo di studio. Faccio questo intervento in italiano, ci scusino i nostri ospiti stranieri, poi passeremo a una sessione con i loro interventi, tutti in lingua inglese. Lasciatemi ricordare, come quando parlo di questi temi faccio spesso, che in questa stessa aula, quasi 23 anni fa, il 17 ottobre del 1996, una platea, io all'epoca erano negli Stati Uniti, per cui non ero presente, ma una platea immagino importante, stava discutendo esattamente questi temi. Quindi sono passati 23 anni, ci ritroviamo a parlare di questi temi. Chi parlava all'epoca era qualcuno chiaramente molto più prestigioso di me, era il professor Kenneth Keniston, uno psicologo sociale del Massachusetts Institute of Technology, che era stato direttore del programma in scienza, tecnologia e società, poi è stato direttore di Graduate Studies at MIT e ha continuato poi una lunga carriera che continua fino ad oggi. E in quel contesto il professor Keniston si rivolse a questa platea nel contesto delle attività fatte dall'Istituto di Studi Superiore in Scienze Umane, all'epoca attivo al Politecnico di Torino, con un discorso che non oserei definire, cioè mi permetto di definire memorabile, cioè la crisi dell'algoritmo degli ingegneri. L'algoritmo degli ingegneri racconta in questa lezione magistrale, che abbiamo caricato anche sul sito di Sust, quindi se non lo trovate in altri modi lo trovate sicuramente lì, racconta prima l'algoritmo degli ingegneri, che ha avuto grande successo per quasi cento anni, e poi comincia ad analizzare la crisi dell'algoritmo degli ingegneri con possibili soluzioni. Non riassumo quel discorso perché ci prenderebbe troppo tempo, vi invito a leggerlo caldamente perché credo sia ancora perfettamente attuale oggi come lo era 23 anni fa, però lasciate che in estrema sintesi vi presenti il mio punto di vista con pochissime slide per dire perché parliamo di scienze umane e sociali in una scuola tecnica, oltre a quello che ci ha detto già il professor Saracco. Primo punto, formazione degli ingegneri, quindi il focus è su ingegneria e in particolare quelle ingegnerie che non hanno per la loro, quasi tutte, per le loro caratteristiche una componente di scienze umane e sociali, penso per esempio ai nostri colleghi gestionali che già costitutivamente hanno una componente importante, penso a tutti gli altri, pensiamo perché tutti quelli che si occupano del mondo pensano ad altro e potremmo dire che è un sostegno all'ulteriore sviluppo della personalità individuale. Lo studente che entra da noi a 19 anni non ha ancora completato la sua formazione, lo sviluppo della sua identità, ha ancora bisogno di un po' di spazio per farlo, non se è tutto esaurito con le scuole secondarie superiori, questo è ben chiaro in altri sistemi come il sistema formativo degli Stati Uniti d'America, ma è chiaro anche dall'evidenza delle neuroscienze di questi anni che ci dicono come la formazione anche dal punto di vista cerebrale delle persone è in grandissimo tumultuoso cambiamento ancora fino ai 28-29 anni. Secondo, cittadini più consapevoli e più capaci di pensiero critico, tutti a parole lo auspicano ma poi bisogna fare qualcosa di concreto per effettivamente poi contribuire a dare cittadini di questo tipo. E terzo, che ovviamente è immediatamente quello che verrebbe in mente parlando in un Politecnico, ingegneri migliori. In che senso ingegneri migliori? Direi ingegneri migliori da quattro punti di vista. Il primo perché consapevoli ex ante delle potenziali conseguenze umane e sociali del loro operato e quindi essendone consapevoli almeno un po', nessuno sta pensando di creare un Leonardo da Vinci consapevole delle tecniche delle scienze, delle scienze umane e sociali, perché questo è impossibile, ma almeno un po' consapevole, qualcuno che sospetta che ci sia qualcos'altro e quindi incorpore nel suo progetto questo impatto, che sia una app, che sia un traforo, che siano qualunque altro intervento tecnico che entra nella società, non a caso si parla di interventi sociotecnici in questo senso, migliori perché più informati dei metodi delle scienze umane e sociali e quindi in grado di collaborare meglio con colleghi con quel tipo di formazione. Non nascondiamoci che noi ingegneri abbiamo una certa tendenza a pensare che il nostro metodo, come direbbe Keniston, il nostro algoritmo è l'unico che funziona, è l'unico che ha senso, è l'unico che è solido scientificamente. Abbiamo di nuovo quantomeno incrinare questa super certezza e far capire che i metodi delle scienze umane e sociali sono diversi e ugualmente legittimi e importanti e utili. Terzo, migliori perché capaci di decidere meglio, siamo una scuola che comunque produce anche ingegneri che andranno ai vertici delle società, della pubblica amministrazione, delle organizzazioni internazionali e avere una visione anche non soltanto strettamente tecnico-scientifica aiuta a prendere decisioni di quel tipo migliori. Quarto e ultimo, capaci di lavorare meglio, come dire, globalmente in un mondo che sta cambiando davanti ai nostri occhi in maniera molto significativa, si tratti dell'ascesa della Cina e poi dell'India, la crisi delle democrazie liberali, il riscaldamento globale e così via, sono temi che poi hanno un impatto sull'attività lavorativa di cui essere consapevoli anche solo banalmente per capire una cultura così profondamente diversa come quella cinese. E badati da questi tre aspetti la persona, il cittadino e il lavoratore, volutamente ho voluto scrivere queste tre parole molto molto vicine perché in realtà è un'intricata relazione tra questi aspetti, non sono tre silos separati, quello che faccio per avere una persona più, una personalità più sviluppata, un cittadino più critico e il lavoratore, in realtà sono tutte filoni che si intersecano e si rafforzano a vicenda, per cui fare una cosa non vuol dire non fare qualcos'altro a favore di un altro di queste vesti. Contributo alle scienze sociali alla ricerca tecnico-scientifica, formazione adesso ricerca, in che senso? Solo una slide. Aspetti etici, se ne è parlato, in alcuni paesi d'Europa è obbligatorio che un ingegnere abbia almeno un'esposizione a un corso di etica, gli aspetti sociali che impatto possono avere sul lavoro, sull'ambiente e così via. La Commissione Europea, come sapete, ha da qualche anno questo progetto di ricerca e innovazione responsabile, che un po' cattura queste cose, e più in generale una migliore comprensione dei fenomeni. Qui potremmo parlare a lungo, ma ne parlerà Olivier Bouin, dell'importanza dell'interdisciplinarietà per fare poi ricerca anche tecnico-scientifica migliore, semplicemente migliore, più rilevante, più interessante, più penetrante, più utile. Ebbene, proprio negli anni in cui Keniston faceva in quest'aula quella lezione, quindi circa 25, 20, 25, 30 anni fa, le principali università tecniche europee cominciarono ad andare in quella direzione, cominciarono a modificare il loro curriculum, un po', chiaramente, stiamo parlando di interventi modesti, ma precisi e mirati, e in alcuni casi a modificare il modo in cui facevano ricerca. Di nuovo, una componente minoritaria, ma importante. Oggi potremmo dire che tutte le principali università tecnico-scientifiche del centro-nord Europa, quindi al di là delle Alpi, hanno una componente umanistico-sociale, variegata, eterogene, eccetera, ma c'è. Non così, qua rivediamo, ahimè, un'Europa a due velocità, nel sud d'Europa, Spagna, Italia, Grecia e nell'est Europa, che invece rimangono con l'impostazione strettamente tecnico-scientifica. Questo chiaramente ha grandissime linee. E a questo punto, perché cosa facciamo il Politecnico? Cosa fa il Politecnico di Turino, nato 160 anni fa, come ricordava il Rettore. E allora, ecco, due parole su che cosa fa questo gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro SUST, SUST sta per scienze umane e sociali, per la scienza e la tecnologia. Così composto, quasi tutti i membri, credo tutti i membri sono qua seduti in prima fila, se volete poi interloquire con loro. Li ringrazio, sono il collega Giovanni Durbiano, Gianvicenzo Fracastoro, Vittorio Marchis del Politecnico, Maurizio Ferraris, Pepino Ortoleva e Cristina Becchio dell'Università. Il collega Paolo Volontelli, Politecnico di Milano e Luca De Biase, che ho visto arrivare, collega, amico, autore, giornalista. Cosa abbiamo fatto in questi mesi? Siamo cominciati a lavorare a novembre. Allora, abbiamo partito dicendo mappatura dell'offerta in crediti liberi, quindi una mappatura precisa, puntuale di tutto ciò che viene offerto come crediti liberi in Ateneo, laurea triennale, laurea magistrale. Secondo, mappatura dello stato dell'arte nelle principali università tecniche europee e qui, in realtà, quando abbiamo cominciato, l'aiuto è arrivato strapitoso, di cui ringrazio sempre il collega Paolo Volontelli, Politecnico di Milano, perché questo coordinamento di docenti interessati a questi temi, chiamato META, l'Unità di Studi Umanistici e Sociali su Scienze e Tecnologie del Politecnico di Milano, guarda caso, aveva appena fatto uno splendido rapporto sulla presenza e integrazione delle discipline META nei Politecnici e nelle università tecniche in Europa. Quindi l'abbiamo ringraziato vivamente, l'abbiamo studiato, abbiamo acquisito agli atti questa mappatura che raccomando tutti vivamente perché dà un'idea di come sia il panorama delle scuole tecniche europee. Poi si sono concentrati su questi 13 scuole prestigiosissime e di queste 13 scuole hanno fatto uno studio dai siti web per capire che cosa stavano facendo nell'ambito delle scienze umane e sociali e trovate quindi le corrispondenti schede e poi hanno fatto quattro visite in loco di università appartenenti all'IDEA League di cui fa parte Polimi, che sono Politecnico di Zurigo, la Technical University di Delft, Haken e la Chalmers University. E ovviamente con la visita in loco si conoscono, si scoprono, si capiscono molte più cose che non guardando un sito web e quindi il rapporto di queste quattro università è molto più dettagliato. Studiato questo, acquisito questo, abbiamo voluto dare un contributo anche noi, anche proprio ai colleghi di Milano per non essere soltanto, come dire, freerider e abbiamo fatto due visite in loco a Parigi il 21 e 22 febbraio e colgo l'occasione per ringraziare ancora sia Maurizio Ferraris che Olivier Buen per la straordinaria aiuto nel fare queste due visite, questa visita a Parigi di due giorni e abbiamo incontrato in realtà moltissime persone e istituzioni. Lasciatemi che mi concentri su quattro scuole tecniche prestigiosissime, l'Ecole des Mil, l'Ecole Polytechnique, Paritec e l'Ecole Centrale su Pelec, perché ovviamente essendo scuole tecniche c'era una affinità istituzionale evidente e da loro abbiamo imparato molto e da alcuni di loro, in particolare dall'Ecole Centrale, abbiamo il grandissimo piacere di avere l'ex direttore generale, il professor Biossè, che ringrazio molto di essere qui con noi, che parlerà più tardi. Poi la seconda visita a Lausanne, Lausanne alle PFL, abbiamo imparato in realtà cose anche su UNIL, l'Università di Lausanne, per motivi che sentirete presto direttamente da una persona che se ne occupa, quindi l'Ecole Polytechnique Federale de Lausanne e qui abbiamo visto una scuola ancora più simile a noi, come numeri soprattutto, perché le grande col prestigiosissime hanno numeri più contenuti, ma l'EPFL è più vicino a noi e abbiamo sentito che cosa hanno fatto in questi ultimi vent'anni, lo sentirete dalla viva voce del DINL, del Collège des Humanités, il professor Capossì, che è seduto in prima fila, che anche lui ci racconterà, quindi sentirete dalla sua viva voce che cosa fanno i PFL. In estrema sintesi, da questa mappatura europea, che se non avete il tempo di leggere provo a sintetizzare in maniera estrema, lo schema ricorrente in Europa è uno o due corsi obbligatori all'inizio del percorso, il percorso è un 3 più 2, come ormai in tutta Europa, e poi nel resto del percorso formativo una quota costante, piccola ma obbligatoria, di crediti di scienze umane sociali scelti da un catalogo. Questo potremmo dire è il modello che abbiamo trovato più spesso. Molta didattica è erogata da docenti esterni, per ovvi motivi, ma anche con un nucleo di interni che fanno se didattica sia ricerca. Fatto questo, elaborato questo, chiaramente ci sono tutte le corrispondenti relazioni che saranno nel rapporto finale, incontro con i dipartimenti, con tutti i dipartimenti 6, 7, l'8 e il 9 maggio, apertura tramite i direttori a qualunque contributo, inviando richieste, contributi, riflessioni, eccetera, all'indirizzo email del gruppo di lavoro. E adesso, questo incontro che adesso vi presento, se passato il quale dovremo chiuderci in conclave e scrivere il rapporto da consegnare al rettore. E in questo rapporto cosa ci sarà? Ovviamente motivazioni, gli obiettivi, li avete sentiti, la storia, perché non dimentichiamoci appunto di quell'esperienza dell'istituto di 25 anni fa, che è stata un'esperienza importante, Vittorio Marchis la conosce bene, ma anche altri colleghi del Politecnico, il contesto internazionale che ho provato a sintetizzarvi in poche parole. Poi ovviamente una proposta di cosa pensiamo sia opportuno per il nostro Politecnico, per la nostra storia, per i nostri obiettivi, per gli obiettivi del piano strategico, per la laurea triennale magistrale in primis, e poi anche su realtà con numeri più contenuti, come la scuola di dottorato, il percorso talenti e l'alta scuola Politecnica. Diremo qualcosa anche sulla ricerca e quindi ci chiederemo, vogliamo anche noi pensare di fare un nucleo di umanisti e scienziati sociali, attenzione, specificamente interessati e occuparsi di scienze dure e di tecnologia, questo deve essere il focus del loro interesse, e interessati a stare qui, dentro un'università tecnica, lavorando con noi, con gli ingegneri, in maniera tale da poter avere, veramente costruire col tempo, ponti, dialogo, linguaggio, vocabolario, eccetera. Bene, giornata di oggi, è un momento di condivisione, quindi abbiamo invitato e li ringraziamo molto di aver accettato persone che venissero a raccontarvi direttamente cosa pensano e cosa fanno, invece di sentire una relazione fatta da qualcuno come me, quindi condivisione e di confronto, confronto con voi che siete nella platea e confronto con le persone che abbiamo invitato al panel, che sono oltre due rettori, Saracco e Ayani, sono persone che vengono da un'altra istituzione culturale, vedo il direttore Cristian Greco e quindi al Museo Egizio, e lui recentemente ha parlato proprio di rivoluzione digitale umanesimo, sentiremo il suo punto di vista, un collega come Maurizio Ferraris che come sapete sta lavorando proprio in questa direzione con l'iniziativa Scienza Nuova e poi importantissimo un punto di vista dell'industria e quindi la responsabile delle risorse umane worldwide di Comau, una grandissima azienda di alta tecnologia di automazione e di robotica, che ci venga a dire cosa ne pensa lei di come dovrebbero essere l'ingegnere, ringrazio la dottoressa Pinto di essere qua con noi. Quindi la mattinata è così suddivisa, le quattro lezioni dei nostri ospiti, seguirà un breve confronto col pubblico, con i membri di SUST e con il pubblico in generale, e poi il panel che vi dicevo, moderato da Luca De Biase, con appunto le persone che vi ho appena ricordato. Concluderà il nostro vice-rettore per la didattica, il professor Sebastiano Foti, destinando alcune riflessioni e conclusioni per chiudere la giornata, che vi promettiamo, chiuderemo entro le 13.30 come da programma. Benissimo, a questo punto ringrazio ancora il rettore, che si accomoda in prima fila, e io farò del vigile urbano per iniziare questa prima sessione. I nostri quattro ospiti. Invito al podio il nostro primo relatore, che è il professor Eurve Biossè. Grazie molte. Due parole di presentazione sul professor Biossè, che abbiamo incontrato a Parigi a febbraio. In queste due ore di colloquio a Parigi, il professor Biossè, che è stato rettore, loro lo chiamano direttore generale dell'Ecole Centrale Superlec, che è la fusione tra l'Ecole Centrale de Paris e l'Ecole des Superlec, è stato rettore per più di dieci anni, e nell'ambito di durata di questo suo mandato, una delle azioni principali che ha fatto è stata proprio nella direzione dell'oggetto della giornata di oggi, in quelle due ore parigine ci ha raccontato una vera e propria filosofia educativa per degli ingegneri, e quindi siamo molto contenti che abbia trovato il tempo e la forza e la voglia di venire qua a Torino a raccontarci tramite la sua viva voce questa visione educativa per l'Ecole Centrale Superlec. A lei la parola, professore. So, sorry, I will deliver my speaking in English. Dear Rector Saracco, dear Professor de Martin, dear colleagues, dear friend from Sust Mission, we're having a very nice time in Paris. Dear colleagues, it's a great pleasure and a great honor for me to present what we have done at Ecole Centrale, and now Centrale Superlec, for more than 30 years now in the field of human sciences in engineering curriculum, which is of key importance for me. And so, before explaining what we have done, briefly, let's recall who we are, because we are no more Ecole Centrale, we are now Centrale Superlec, because we merged with Superlec at the beginning of year 2015, and so I have the privilege to be the last president of Ecole Centrale and the first president of Ecole Centrale Superlec, but now, unfortunately, I'm retired. A few words to recall who we are. We are a typical French engineering grande école, meaning that, you know, the grande école are different from the universities, are different parts, and the main difference is that in France University are not selective, and grande école are very selective, meaning that our students are among the one-percent best students in science and technology every year. And for that, we have a double-level system of selection. Before entering the school, the students are going to the preparatory classes, where they are studying most less physics and mathematics during two years. They are selected for that one time, and after two years, they are going through the national competitive examination in order to enter Ecole Centrale, and now Centrale Superlec, where they are staying three years. The tradition of the school is that we have many, many industrial partners, more than 150, and with institutional relations, partnership and also institutional relations with them, and we have a very strong national and international strategy, meaning that in France, we have three campuses, we have a leader of the Group des Ecole Centrale, with five Ecole Centrale in France, but we also have three campuses abroad, one in Beijing, China, one in Idarabad, India, and one in Casablanca, Morocco, and we have four international laboratories and more than 100 partners in and the best university in the world. And finally, we are strongly committed in the Université de Paris-Saclay project. You know that this is a project for this new university, which will be launched at the beginning of next year, and which is supposed to be top 30 in the Shanghai ranking and probably top 20 in Shanghai ranking because its scientific power is highly increased by the national labs, CNRS, and CERM mainly. And there, we intend to be the School of Engineering of this new university. Now, I've come to my subject. What have we done about human and social sciences engineering curriculum of Ecole Centrale? Because the story started at Ecole Centrale 30 years ago. First, why to do that? And for that, there are five major reasons. The first one is the culture of the school. We were founded in 1829 by a private initiative of young disciples of the Earl of Saint-Simon. Our founder was 32 years old when he decided to create this school. You know the utopia of the Earl of Saint-Simon. You know that the Earl of Saint-Simon was convinced that science and technology was the solution of the problem of poverty. And he was convinced, and it is our conviction, that science and technology contribute to the progress of the society if they are supporting a humanist vision of the world. So since the very beginning, we are transmitting to our students humanist values, and among them, the sense of their social responsibility, because they will be leaders. Second, since its formation, Centrale Paris is a so-called generalist school of engineering. Of course, our students have one domain, one discipline, where they are very strong. But since the beginning, they are supposed to have, at this time, a complete view of engineering science. But now it's no more possible. And so the name generalist means something different. It means all the aspects of an actual industrial problem or an actual company problem. And therefore, we have developed a systemic approach of problems. And therefore, we have included in the curriculum economical, environmental, ethics, social, political, etc. And therefore, human and social aspects of the problems. The third reason is that more and more engineering profession implies human relation with more and more partners and more and more complex situations and networks. And therefore, our students must be easier in these situations. They must know how to manage teamwork as a leader or a partner, to know about multicultural environment, complexity, etc., etc. And these require a good general culture. Fourth, professional legitimacy of engineers is initially based on their technical competence. But the success of a professional career is based on human skills, on human qualities, and especially ability to communicate. And last, and it is my personal belief, at École Centrale, we don't educate engineers. We educate persons who are not yet completely adults. Of course, we give to them an excellent and very ambitious engineering education. But the main issue of the school is to help each student to find a greater coherency between what he or she is or will be as a person, as a citizen, and as a professional. Even if finally, his or her project is not to be an engineer. And the school, therefore, encourages and supports every project or proposal of a student which is considered as positive, even if it requires adaptation of her or his curriculum. What have we done? So the story started at the end of the last century. And the driving force then was the development of international program of the school. It was a major issue of my predecessor, Professor Goiz. Centrale, you know, invented the concept of double degree in engineering. It started in 1986. We have developed a sort of time network. Politecnico di Torato is a member of this network for double degrees. And soon, it appears that one of the major interests of double degree with a long stay abroad is the cultural one. To live one year and a half or two years abroad and to be merged in a different culture helps our students to understand better their own culture, to take a little bit of distance with their culture, and to be more aware of it. And so it improved drastically the capacities to adapt in any situation, but also to communicate and to understand better the world. To get full benefit of their international experience, our students must develop their knowledge of their own culture. And therefore, it's extremely important to go that way. So what would we do at this time? We were just starting. The first thing we did was so-called cultural openness activities. Just to propose open-minded activities to our students, it was a very large spectrum of modules from what is psychoanalysis or Italian painting of the Middle Ages or basic organization of society, et cetera, et cetera, which were delivered by external experts or professionals. This module was chosen by the students. Each module was 30 hours and at least one year. And it was more discovery of activities and conferences than actual courses. The benefit, first, was the acceptation of soft skill importance in the HSS as a discipline from the STEM professor. And the satisfaction of a large majority of students. The problem was maybe a lack of ambition. This didn't give really a comprehension of the HSS method. And does it really improve the openness of our students? We were not completely sure of that. But by the way, it was very interesting because we started that way. And this was very, very supported by our students. The second thing we've done is the revamping of the test, intern test in French language in the National Competitive Examination in order to check the mastery of French language for our students. Because French, using very well your native language, is a way to better conceptualize, analyze, discuss, et cetera, et cetera. And traditionally, it was a dissertation on the sentence of a writer or philosopher. And so we decided to change that completely. And as a symbol, we put an higher coefficient to this test than the second one of mathematics. And you know that in French, it's a very, very important symbolic decision. And it is now based on a very long text, more than 1,500 words. And with two parts, a contradiction of this test in exactly 300 words, and a dissertation on the sentence of the text, but which must take into consideration the context defined by the text. And therefore, we are checking that way, the ability to understand deeply a text, to use French efficiently, and proper words, either to synthesize or to analyze. And it was a very good preparation and a very good filter, but it was not completely sufficient to ensure a good level that way. And third, we have developed the foreign language offer and study to improve the ability of our students to communicate, to conceptualize, and to understand their own culture. So a very high level is required in French and English, and a certified level in the third language. So this is mandatory not to get the degree. Courses are structured on a cultural aspect. Art, cinema, literature, tradition, history, because it's important to speak well, but it's at least also important to understand the culture of the language which is transferred by this language. And now, at least six months abroad are mandatory to get the degree, and recently we checked that, and the mean value is 13 months. So most of our students are spending more than one year abroad. So the professor and the students were delighted, very satisfied. Fortunately, some of our students didn't have a very good level initially in language, and so they have to be supported strongly, and they didn't benefit so much from the cultural aspects. Then came the second period, the beginning of the century, and the driving for them was a complete revamping of the curriculum to adapt to the new century. It was the so-called Ariane project. Ariane is a rocket, you know, quite high. And we decided to train new students, first, because it is a tradition, and it is really required now, top-level multidisciplinary engineers, in the continuity of generalist education, who can effectively impact today's world through their leadership, their entrepreneurship, their innovative spirit, excellent, therefore, on a scientific and technical basis, but also innovative entrepreneurial leader. And therefore, we were thinking that the curriculum must develop the capacity to innovate, the ability to initiate, manage, and succeed at change, and, finally, ability to deal with more and more complex interdisciplinary issues. What did we do then? First, mention that Ariane project was also an opportunity to change the paradigm of the school. Before, we were teaching engineering science because it's very useful to study and manage systems. Now, we are teaching systems, and engineering science are very useful to study and to manage them. But the main thing is their ability to study systems, because the real problem is the system now. And to teach the basis of HSAs became mandatory, because real systems always have human and social dimensions. So, the first initiative was the so-called 21st Century Challenges Project. Since their arrival at the school, we gave information to the students on seven major issues, seven major challenges of the 21st century through conference, visit, workshop, explaining basis, problematics, challenges, etc., etc. So, during the first semester, many, many things are done that way. And, finally, the students are choosing one of these seven issues and have a project with a company client since the very beginning of the curriculum. What is this project? It is directed, related, one of these seven issues. It's done by a team of five students who have never worked together before, and including one foreign student, often not very fluent in French. And it is very important. On a real, not well-defined industrial problem. It's not a problem with a solution. It's not well-defined. with the support of an academic tutor and an industrial tutor. But we said to them, these people are very busy. If you want to have time with them, you have to prepare very precise questions. It's a very rare resource. So, you have to be really ready. And they are evaluated as a quality of teamwork, the methodology used to reach a solution, and the ways aspects of the problem have been taken into account, scientific, of course, but also economical, environmental, human, social, et cetera, et cetera. And the students understand that way very well, that teamwork is not so easy, and that they must spend more time to define a problem than to solve it. The real world problem requires more time to be defined. It was, there are many, many excellent projects, but unfortunately, some teams get poor results, and therefore, we have to support, and we are supporting this team which are completely in trouble. By example, it's very funny because after one semester, some teams are doing fantastic things, and other teams are completely unglued in teamwork problem, agenda, et cetera, et cetera. But it's instructing for them to understand that it is difficult. The third thing, the second thing was a so-called ARIAN workshop. It was a group of 40 students, six workshops of 2.2 and a half days from the semester, which is very much, with two facilitators. And during this seminar, first they are studying the engineers' know-how, problem-solving, teamwork, communication. They are studying professional project, becoming a, what is for me to become an engineer? What does it mean for me? Professional project, what is to manage a career, et cetera, et cetera. And finally, leadership and creativity, safe awareness, creativity, what is complexity, et cetera, et cetera. And it was extremely successful, extremely successful, completely adopted by the students, very well supported by the companies. and one of my great success is now in all group, one of the two facilitators is a member of the faculty and often a STEM professor. It's a great success for me. We were not at all there 30 years ago and now everybody's convinced that it's very important to give this kind of education to our students. And finally, it was the last year professional tracks. of course, there were 10 areas of concentration, very classical one, I will not define them, but also the so-called professional tracks, which are preparing our students to their job, to the profession, not to the discipline, to the profession. And you see it started from create a company to be a consultant or to be a project manager. And this prepare our students to our integration in the company. This gives their initial impulse of their career and gives them methodology and skill in order to be successful in their jobs. Extremely successful, completely adept by the students and the companies. So that was a great success. The third period, nearly now, the driving force was different. The driving force was just the evolution of the society. The globalization, the numerical revolution have led to the so-called you know this world, probably the VUCA world, the VUCA world, volatile, uncertain, complex, and ambiguous, with enormous global problems to solve. And so, I've been emerging more and more intense questioning of our students about the meaning of their future job and even more and more, the meaning of their life. And so, we have decided to create the real HHS department and the student assistant direction. I will give a few words about that. The HHS department, as now the courses propose to our students many situations to develop their skills. As a better understanding of the world and society requires basis, basics of HHS. It was time to introduce two true HHS courses in the courses. And so, it was a decision to stop cultural openness activities in this form. Of course, it's continued, but now it's completely involved in the HHS department. And to establish real HHS courses about science, technology, and society. One of the favorite courses of our students is a course about epistemology of sciences. Individual, labor, and organization, art, science, and design. We have chosen these three items because we do believe that foreign genius is very important to reflect a little bit about that. And we have done that in cooperation with institutions like La Sorbonne and opened the possibility of a double degree in philosophy, history, political science, design, and some of them are very successful, especially design and philosophy. And finally, we have decided to support and help our students who have personal questions and personal problems. Not directly related to the rationale of the curriculum and the profession of crack, but the students who have questions, malaise, sometimes anguish, sometimes unfortunate, depression or addiction, and to open the light for them, to be able to listen to them, just listen to them and to help them. And so we have established a group of persons who are coaches and psychologists who are listening to them with absolute confidentiality on a voluntary basis and no judgment, sympathetic listening. and so the role is to support them and if necessary to orientate them to professional doctors, physiologists, alumni, coaches, depending on what they need. But we all know that no problem resists to the fact to be discussed with good persons and with kindness. And therefore, this will also be very effective. And now, now the driving force is the conception of the new engineering curriculum of Central Superlec and now its implementation. This, it started the day I left the school. I retired the 1st of September last year and the new curriculum started this day. So, it was something like my baby but I will not see the growth of this baby unfortunately. and we decided to go a step further with a full integration of knowledge, methodologies, and skills to face real world problems. And it was a generalization of, let's say, a concept which was a semantic sequence as I will explain that just now which was successfully experimented at Central while of course maintaining all the existing successful HSS and personal development devices of the school. So, this is the way the new curriculum is working briefly. After the preparatory class and the admission, the students have a curriculum which is divided every year in four eight weeks terms. And what is interesting is the difference between the pink one and the blue one. The pink one are generalist sequences or classical teaching. Between the classical teaching and the blue one which are the second thematic, there are very intensive week in between with project, teamwork, et cetera, et cetera. But what is interesting is the blue part. It's called thematic sequences. Oh, yes, that's it. And it's completely different. There is a major item. The first one is about modeling and the students are choosing one of the major challenge issue. We are proposing seven different curricula. They are choosing one. And in each subject, the group of students have to face some real industrial problem which are given at the beginning. Industrialists are coming at the beginning and say, this is a problem I would like you to study. after that six week's courses. They know that the courses will be useful but they don't know how. And finally, there is one week of challenge. During one week, it's teamwork. Industrialists are giving data for them and they have to self-organize to provide after one week a solution with the jury being a jury with faculty members but mostly the people of the company. And it is very effective and the whole curriculum would be that way with period of classical teaching and this period and you see that the whole curriculum is organized that way. And we have experiment of these blue things which are very, very effective and we see some students doing really splendid things in this situation. Well, finally, what is my conclusion? My conclusion is that the progressive introduction in the curriculum of skills and personal development activities and HSS discipline has been extremely positive for the school. First, it improves the quality and the pertinence of the curriculum and it is strongly supported by companies. Second, it improves the satisfaction of the students who are no more students. Of course, there are students but they know that the school is looking to them as persons and they are very satisfied with that. third, it improves the relation between the students and the faculty and fourth, it improves the education of the curriculum with the school issue and therefore, it improves the whole coherence of the school as you know, an education institution cannot be different of what it intends to learn to its students. We want them to be leaders, entrepreneurs and innovators. We must be leaders, entrepreneurs, innovators, et cetera, et cetera, et cetera. Finally, some perspective. My opinion, human science, human and social science will be more and more mandatory in the engineering curriculum as in the numerical and VUCA world and besides the enormous 21st century challenges. Our graduates will have to face major human and social problems such like truth, ethics, private life, future of democracy, future of Europe, future of nation, religion, migration and yesterday we discussed during dinner and we found easily other items. It's enormous. When I was 23 years old, the world was very simple, very simple. No doubt about progress, no political problem, communists on the left and liberals on the west. It was very simple. Now it's extremely complex for them and it's normal that they have questions about the meaning. It's normal and we have to accept that and to use that at a level of progress, to leverage the progress. And therefore, of course, they have to find their solutions. But our duty is to help them as much as we can with kindness and humility in that way. And finally, now looking to what our students are able to do, I continue to be really optimistic. And it's the reason why we decided 10 years ago to build a completely new campus which is centered on students. It's a place for students everywhere. I have no time for that. This campus was launched in the end of 2017 years by our president, Mr. Macron, came in for the inauguration. but if you have some interest about what we are discussing today, please come. Please come and see you in Saclay. We will be delighted to propose to you a visit of our new campus and to discuss with you about our view about the evolution of engineering education and probably we will have also discussion about human science and social science and technology. Thank you for kind attention. Thank you very much Professor Biosset. Wonderful presentation, truly inspiring. Now I would like to invite to the podium Professor Bela Capossi from the EPFL in Lausanne. Professor Capossi, we met him during our visit in Lausanne at the beginning of March. He's an historian, he's an historian of ideas, he's a research centers on the history of political and economic ideas, but he's here in a different role in the sense that from the University of Lausanne where he is currently attached, he started to work on an interdisciplinary project that led him to work with the polytechnic of Lausanne and there is the dean of this entity, the Collège des Humanités, College of Humanities that he's going to describe and which we found profoundly interesting during our visit. So thank you Professor for coming to Torino and the podium is yours. Okay, thank you. It's my turn. Thank you very much for this kind invitation. Particularly thank you to the rector of Politecnico, Professor Serraco, and also to the spiritist rector of SUSST, this wonderful initiative, Professor De Martin, who I've had the pleasure to meet in March in Lausanne as well as several other people here in the room. The reason for me being here I guess is twofold. The first is to show how you can have teaching or an entity for teaching Humanities and Social Sciences without setting up a proper faculty at a technological university. And the other point is to show or to give an example how such an endeavor, such a project can succeed. it was a project that started 13 years ago that will also explain why I am here and not an engineer, when the University of Lausanne decided to have an agreement with EPFL to move four faculties, chemistry, physics, mathematics, and computing over to EPFL. And the two rectors decided to set up a joint program whereby EPFL would continue to teach STEM courses, particularly for students in biology, medicine, earth sciences, and so on. And UNIL, the Université de Lausanne, would provide an equivalent, if not high, number of hours of teaching in the humanities from all faculties and social sciences at EPFL. So at UNIL you have the Collège des Sciences which is largely invisible and EPFL you have the Collège des Humanités, the College of Humanities where the director is always a professor from the University of Lausanne. That's why I'm there. And so what I would like to do over the next half hour is to show you how we function, what kind of courses we do, both in teaching and research and in outreach as you will see those of it, our three pillars. We had, in 2017, we had an international evaluation of the Collège des Humanités where the assessment was very positive but they said it has to be, we have to find a credo that can be communicated to students so they know more precisely what we are about. And we came up with what we call polyperspectives, polyperspectives, which captures very much the essence or the four directions that you will find in all of our activities, being teaching, research, or outreach. So interdisciplinarity, global awareness, active citizenship, and creativity. And we introduced that all courses will have to be affiliated to at least to about two, but not more than two, of these polyperspectives, allowing students to orient themselves more easily within a vast number of courses on offer. So the three pillars, as I mentioned beforehand, are teaching, research, and outreach. On teaching, and I'll go through these three chapters, if you will, and explaining briefly what we do on a bachelor level, on a master, I won't talk about the doctoral program, on the research, and that is a new thing. Originally, the Collège des Humanités, as I mentioned, at its beginning was just the teaching of humanities and social sciences by Professor Unil at EPFL. And the research is of a much later date that we started a couple of years ago to set up institutes. We have two currently. I will speak about them later on. And outreach has become very important more recently still, partly through the building of an art center, which is not a museum, but an experimental art facility called Art Lab. And also because there's a real interest from the public, and that is also something that was mentioned previously in the introduction by Professor de Martin, to engage with the wider public, citizens who are not at the university, but who are immensely interested in what we do, and to see to what extent people at university and at the EPFL can provide answers or contribute to providing answers to big social, technological, and ethical and other issues that dominate the press and discussions today. So let me start with teaching. We have a big SHS program, the Social and Human Science program, and that's the original call of the College of Humanities. Then we have, on a master level, we try to squeeze in into a master program by offering a minor, that's what master students who, for example, do a master engineering or in computing, they can do a minor at our college. And then we have a proper master, that's the master in digital humanities. So, the Social and Human Science program, there currently, we have about 140 courses, I think it's actually more something like 150, where students have to choose from the beginning of the bachelor right up to the end of the first year of the master, every semester they have to choose freely, that's why they generally like it, one course that we offer. There's no restriction regarding a topic. Sometimes we have certain filiares, certain branches, be it in philosophy or digital humanities or design, whatever, where we provide, try to provide follow-up courses. So someone who is interested in a particular branch or a particular set of questions, they can do that. But often we see that students, they go and they move around and try out various fields. so that's what it looks like. We are very small, we're the smallest school at EPFL, but we have a, we cover, we reach all students, so per year we reach 8,000 students through our courses. 143, there you have it, and 123 professors, of which the big majority, I would say about 100, come from UNIL, and the others we bring in from Geneva from the two art schools at ECAL in Lausanne or the head at Geneva, the Graduate Institute in Geneva, or we can give charge de cours lecture appointments, temporary lecture appointments to specialists elsewhere, either outside of Switzerland or within Switzerland. We start off with the Propédotique, the Propédotique course on the, that's in the second semester of year one, so that's semester two, the spring semester, and then we have bachelor courses for year two and year three, and then the master, the first year of the master degree. They also can take and have to take an SHS course. The Propédotique cycle is somewhat particular because it's organized around six themes and each theme is, we have two courses per climate, two per energy, and so on, and students are divided into these groups. The particularity of these courses is that they are co-taught by people from UNIL or from the social and sciences and humanities and by engineers or natural scientists from EPFL. And they form a team and the aim is to take one of these big topics and to show students how they can approach it from a scientific, from engineering, but also from a humanist and social science perspective. At the end of this semester, they have to produce a poster which the 12th best of each group is then being selected. They nominate the three best and then at the end of the following year, they are all invited the winners to present their poster at a special event which we call Grand Témoin where we invite speakers. This year, we had Mohamed Yunus, the Nobel Prize winner in economics and they can join him on stage and they have to present within three minutes their project. And it's usually it's very professional, a lot of fun and the students appreciate it. Then for the other courses and I can't cover all of them, the 143 courses, I just want to give you a sense of the diversity because on one hand we have of course classical courses be it in law, be it in psychology, be it in philosophy, philosophy of science, be it in history, art history, medicine and so on but then we also and this I would say is a more classical course but then we also have other more innovative courses. One word just on the classical course, for us it's impossible to say which courses work and which courses don't work. This is a course that when it's open five minutes later we cap it at 80, for years now has been completely the subscription rate is complete. So this is, that's a killer course. And then we have other courses where we would think that's a topic that students would immediately take and it doesn't attract that many people. So there's a sort of, there's a certain degree of unpredictability. But then we have courses like this one. We have a professor of engineering who also has a education as a professional dancer. he's very interested in thinking about creativity innovation for engineers. And what he does he has workshops and he collaborates with the local very avant-garde theater on how groups of students they can experiment the limits and the possibilities of improvisation. And at the end they showcase it at the theater. And we've had very interesting feedbacks on that. Another one that comes out more of a collaboration with the with the with the design and art school is the prototyping. We work quite a lot with with design and try to implement it design also for social social sciences and humanities and we have more recently also courses on ethics and robotics. Right. Now for the minor on the master level that is something particular. Think of it as design applied to the humanities plus the methodology of ethnography and what you get then is a sort of program where students they can they have to take courses particularly in other cultures on Asia on Africa on South America and then we offer them at the end of the semester a field work which is very important that they go outside of EPFL it wouldn't have to be in Asia or in Siberia but currently that's how it is and then for four weeks they have to do scientific field work and during the day they get several hours of teaching on anthropological methodology on history of the place they're studying and so on and it's usually composed teams with students from UNIL and from students from EPFL and currently we have one in China that's that is an attempt to figure out if you take the prototyping process of how much of human on social sciences you can inject into it to think about desirability about feasibility the working of groups it's also a course which is important because it doesn't matter whether you succeed or not they make that very clear so failure is absolutely an option and students find that very challenging but they also like it and another one is in the Arctic I won't go too much into details the master in science of science in digital humanities is our proper where we offer a degree which has evolved over the last couple of years it is a degree although it also appeals to students who do not have a degree in from engineering schools the entry requirements are very high and students who want to take it they will have to sit through catch up courses but it's basically it's for students from EPFL and other polytechnical universities that is basically what it looks like with blocks one and two the computer science it's very computer science oriented the second block on digital humanities then they have options where they can go anywhere and an internship where they collaborate usually with big institutions abroad either with the several of them have gone to the Harvard library others to the bibliothèque nationale and other similar cultural institutions I'll do that what is very important is are the SHS prizes so for the you've seen it already where they can come together with but we also for the master program and for all those who have to write a mini dissertation during year one of their master courses they also get selected and those who get the prize they're included in the EPFL prize soiree and that's usually a very good event and it's very astonishing to see particularly for those who might be skeptical about the ability of EPFL students to express themselves or to think like historians or philosophers that the quality of the work is very high as one could expect of course once you're there briefly on research that is the more recent one we have researchers done in institutes we have two so briefly one is the digital humanities institute and every professor has her or his own lab laboratory and there we currently have the digital humanities laboratory that's one on cognitive and digital musicology one for experimental museology for history of science and technology and social computing group and then the second institute is for area and global studies and perhaps I'll be very brief on that otherwise I'll take too much of your time the DH lab you might know it through the Venice time machine and scanvan and other projects this is more recently that's Martin Rohrmeyer who's a mathematician but also musicologist and who works with computing on the one hand but also with neuroscience and neuropsychology on the other Sarah Kenderdine is a professor in experimental museology and also currently the director of the art lab it is she's at this both a scientist and an artist and works notably in ways of exposing or developing new forms of visual data visualization of data and how to expose it and integrate it into a museological setting that is our latest professor Jérôme Baudry on the history of innovation and technology also very open you see that is no longer is the sort of standard idea of what a historian of science does and finally we have a social computing group that combines really sociology with computing the UGS that's our outreach in some sense that is linked to the mineur where we study notably heritage intangible both and tangible heritage there are lots of connection here with Polytechnical through Florence Grésert I'll skip that this is important because that's a research project that was set up between by CDH between the EPFL on the one hand and UNIL on the other groups researchers from both universities can form a team and can apply for one of these seed money schemes and the importance is that those have to be projects that could not be done either entirely at UNIL or entirely at EPFL so they have to come up with the rationale to convince the jury that they are into developing research that requires very close interaction between these two institutions with the aim seed money that bring it up to level where they can submit it either to European foundation research foundation or to the Swiss National Science Foundation here just some of the things that we already have developed like artist in residence visiting professorship artificial intelligence and philosophy that is something we try to develop strongly and education engineering schools that is particularly around the idea of developing design for the social sciences and the humanities ethics and science will be particularly implemented on the teaching level outreach very briefly you see this long building here that was opened a couple of years ago is called Art Lab which is under or integrated into CDH it is not a museum as such but we really see it as an experimental place for activities at the cutting edge between art and sciences partly it is to expose to show what EPFL is doing but partly it's also creating a new experiment a new experience where artists who work in the digital world but also musicians together with scientists can work on new forms of artistic production and new forms of visualization just give you an idea of two recent exhibitions one was Kung Fu in Motion where the big topic was how do you preserve and showcase intangible heritage so movements customs and so on it was big collaboration with Hong Kong and the other one was thinking machines Raymond Lull and the Ars Combinatoria that is not well written which is an attempt to see how you can read Lull as one of the founding fathers or through the lens of computational thinking but also how you can from that perspective then having the historical depth it gives you a new perspective of what computational thinking might do with regard to art and innovation so that's in short what we do at CDH and I'm happy then of course to answer any of your questions thank you professor there is going to be some time for interaction at the end of the four lectures so keep your questions for that moment please and I would like to invite to the podium professor Filippo Santoni DCO he is a fellow Turinese he graduated in Turino he also completed his PhD in moral philosophy here at the University of Turin he is currently assistant professor in ethics of technology at the sections ethics and philosophy of technology of the technical university of Delft in the Netherlands and I was looking at the courses that is teaching there and are very much in line with what we're discussing today because their courses are ethics and engineering engineering and society ethics of transportation scientific integrity etc so with great pleasure I give the podium to learn something about the experiences at the technical university in Delft thank you buongiorno come va break in italiano parlerò con un finto accento straniero per tirarmelo un po' perché se no sembra che sono l'unico che gioca in casa sì allora io sono di Torino ho studiato a Palazzo Nuovo questa è la veduta di Delft di Johannes Vermeer e questa è come appariva Delft nel seicento dalla vista dalla da fuori la vista verso il centro e oggi Delft è ancora bello è ancora una cittadina molto affascinante classica cittadina irlandesi sui canali eccetera ma anche un campus universitario invece molto più moderno che dove io passo le mie giornate purtroppo e che è un'università tecnica come forse saprete molto prestigiosa e all'avanguardia ma prima di Delft come dicevo ho studiato qui a Torino ma non qui al Politecnico a Palazzo Nuovo che in questa fotografia sembra perfino bello con riflesso della Mola Antonelliana e quello che farò oggi è un attimo raccontarvi come sono finito a Delft cosa facciamo a Delft cosa ci fa un filosofo di formazione in università tecnica e soprattutto come mi è stato chiesto da Juan Carlos Martín che ringrazio che ringrazio per l'invito assieme al rettore Saracco e Arianna Armau per il supporto raccontare un po' la mia storia ma poi anche in specifico l'insegnamento di filosofia etica dentro l'università tecnica mi sono laureato a Torino nel 2002 quindi proprio negli anni in cui tutto questo movimento di cui stiamo parlando stava faticosamente iniziando mi sono lavorato in filosofia morale e poi mi sono dedicato a filosofia del diritto ho lavorato sui fondamenti della responsabilità giuridica da un punto di vista filosofico e poi da quando sono a Delft mi sono mosso più sull'etica applicata alla tecnologia e in particolare oggi lavoro soprattutto su etica della robotica e dell'intelligenza artificiale in vari ambiti poi non credo queste siano cose che interessino a sobri ricercatori ricercatrici come voi ho anche pubblicato un libro su filosofia del calcio ma questo ripeto sono cose che a persone serie come voi non dovrebbero interessare 20 anni fa diceva Juan Carlos in generale in Europa è iniziato questo movimento di avvicinamento tra le scienze umanistiche e la tecnologia però mi permetto di osservare che l'idea è un po' più antica e risale almeno questa è una fotografia di una famosa università greca del IV secolo a.C. la scuola di Atene e all'epoca la domanda se questa fosse stata un'università umanistica o un'università tecnica non avrebbe avuto senso le persone ti avrebbero guardato dicendo di cosa stai parlando perché nella stessa università lavoravano università in senso lato lavoravano Platone e Aristotele che stanno in mezzo Socrate ma anche quel gruppuscolo di nerd in basso a destra che sono Euclide i geometri i matematici e stavano tranquillamente sotto lo stesso tetto e condividevano la ricerca in una maniera che era considerata naturale e lo stesso si può dire dei grandi passaggi della storia occidentale l'illuminismo rinascimento i grandi filosofi della storia occidentale sono scienziati ingegneri da Cartesio Pascal Kant la domanda se uno fosse un ingegnere un filosofo a volte o uno scienziato un matematico non era una domanda che avesse molto senso quindi diciamo e semmai il contrario a un certo punto nella storia abbiamo preso una svolta perché abbiamo iniziato a pensare che le due cose dovessero essere separate ma nel grande schema delle cose le due cose non sono mai state separate ed e semmai per ragioni storiche sociologiche specifiche a un certo punto abbiamo iniziato a parlare lingue diverse a specializzarci a lavorare in posti diversi la cosa interessante è che appunto io inizio le mie lezioni di solito anche a Delft dicendo che il mio personaggio preferito in questo quadro è Socrate che è quello con la tunica verde perché? per il motivo che diceva Juan Carlos all'inizio perché dobbiamo tornare all'idea di ragionare più sui limiti della nostra conoscenza che sulla forza della nostra conoscenza se come filosofi ci chiudiamo nel credere che abbiamo la verità infusa perché siamo saggi e profondi abbiamo letto Kant e Hegel e dall'altra parte gli ingegneri ci guardano con disprezzo dicendo sì voi avrete letto Kant e Hegel ma non capite niente di come funziona il mondo la tecnologia la scienza se continuiamo a ragionare in questo modo non otteniamo molto invece l'insegnamento di Socrate è che ragioniamo su cosa non sappiamo e andiamo a cercare le persone che possano aiutarci a capire quello che non sappiamo lavorare insieme condividere linguaggi teorie ricerche eccetera poi quello che è successo lo so parlare il Politecnico di Milano a Torino è come andare in un Toro Club e parlare di Juve o viceversa però c'è anche Paolo Volontere il gruppo Meta qui quindi si può fare ma il motivo per cui c'è il Politecnico di Milano è che da un anno e mezzo collaboro con loro faccio un corso di etica dei trasporti grazie anche al supporto del gruppo Meta e di Paolo ma quello che è stato interessante è che la prima lezione sono andato a fare ho fatto questa cosa sulla scuola di Atene eccetera e c'era un professore di Milano che mi ha detto eh ma pensavo lo dicessi perché per il via del logo dell'Università di Milano perché da poco il Politecnico ha messo nel logo questa cosa qui che è esattamente quel dettaglio della scuola di Atene però ho detto però vedete che dovevate fare un passo in più quindi questo è un suggerimento per Torino per fare la famosa rivalità con Milano allora Torino adesso dovrebbe fare il logo del Politecnico ma non solo con l'angolino in basso a destra ma con tutta la scuola di Atene questo sarebbe il passo importante smettere di dire noi facciamo quello che fanno quei quattro nerd là nell'angolo no noi facciamo tutto ok suggerimento raccolto rettore ok andato ethics and engineering allora questa è la specialità in cui lavoro io quello che facciamo a Delft dirò due cose su questo dal punto di vista della ricerca e dal punto di vista dell'insegnamento allora se voi oggi googlate etica della tecnologia morale tecnologia la cosa più frequente che trovate è questa qua sono sicuro che alcuni di voi la conoscono sono i dilemmi morali dei veicoli autonomi no se cliccate lì non lo farò perché adesso non voglio più toccare la presentazione sta andando avanti bene ma se voi cliccate vedrete un video molto interessante dove si dice beh ecco perché la filosofia e l'etica sono importanti per la tecnologia perché immaginate un futuro in cui ci siano veicoli completamente autonomi che a quanto pare non è un futuro così lontano e ci sono dei programmatori che li programmano eccetera non c'è più un guidatore a bordo ora il veicolo incontra una situazione di emergenza imprevista dove deve prendere una decisione drammatica dove non può evitare un incidente ma può soltanto decidere come gestire l'incidente e se svolta a destra investirà un pedone se svolta a destra sono mille scenari possibili se svolta a sinistra investirà un gruppo di studenti se invece va dritto andrà contro un muro e verosimilmente condannerà a morte il passeggero del veicolo stesso come dovrebbe essere programmato questo veicolo e qui panico perché giustamente sia ingegneri sia filosofi nessuno ha una risposta perché il classico dilemma morale del chi bisogna salvare in una situazione di emergenza e per quanto mi riguarda non credo sia una risposta giusta e definitiva a questo però questo è un modo molto interessante per dire beh guardate che ci sono questioni morali anche nell'ingegneria e io sono colpevole di aver partecipato a questo gioco ho pubblicato un paper su questo eccetera però di per sé la cosa secondo me è ambivalente perché da un lato io sono molto grato a questa cosa qui perché adesso quando vado in giro a dire che faccio etica nella tecnologia la gente dice ah i veicoli autonomi chi uccidere la signora anziana o il gruppo di studenti quindi tutti hanno più o meno un riferimento però al tempo stesso mi sembra anche un po' riduttivo perché sembra implicare che si parli di etica soltanto quando ci sono dei dilemmi di vita o di morte uccidere salvare e questo viene un po' anche dall'idea l'etica applicata alla medicina dove noi in Italia per esempio se tu parli di questioni morali si pensa subito alla bioetica se tu dici io faccio etica allora ti occupi di aborto e eutanasia eccetera perché in Italia l'etica applicata ma anche in Europa tradizionalmente viene dall'ambito medico per ragioni ovvie perché è dove è più evidente l'impatto sulla vita e la morte delle persone la salute delle persone però allora questo è un modo per fare questa transizione dire guardate che ci sono questioni di vita e di morte anche nell'ingegneria e quindi è importante che ci siano riflessioni morali sociali anche in ingegneria quindi fin lì tutto bene però è un po' limitante perché come cercherò di dire il messaggio più ampio che viene da questa storia che a me piace di questa storia non è tanto il dilemma di per sé che è veramente un caso ultra specifico e forse neanche dei più interessanti dal punto di vista etica e tecnologia ma è questa idea della temporalità di qual è il momento giusto di iniziare a pensare le questioni sociali quando si fa ingegneria e tecnologia questa è una citazione tra tante che illumina bene quello che si chiama nell'ambito dell'etica e della tecnologia il dilemma di Colin Ridge il dilemma è questo se tu inizi a pensare le questioni sociali etiche molto avanti quando la tecnologia è già sviluppata hai tutte le informazioni necessarie per sapere come la tecnologia interagirà con la società ma non hai più modo di intervenire quindi è il massimo dell'informazione e il minimo del controllo pensate oggi le questioni di privacy Facebook Google oggi tutti sappiamo ah che disastro i dati personali Google Facebook dominano la nostra vita beh troppo tardi la dominano per definizione a questo punto non c'è più nulla da fare per fare la decisione magari qualcosa c'è ma se ci avessimo pensato 30 anni fa quando stavamo progettando internet che internet sarebbe stato oltre che un grande mezzo di comunicazione un grande mezzo di potere e di acquisizione di controllo sulle vite delle persone forse avremmo potuto fare qualcosa in più ma il secondo corno del dilemma è quello opposto se noi iniziamo a pensare alle implicazioni sociali troppo presto quando la tecnologia non esiste ancora allora tutto è aperto abbiamo il massimo del controllo ma il minimo dell'informazione quindi il gioco è trovare il punto giusto dove innestare la connessione tra riflessione filosofica sociale politica storica e progettazione della tecnologia e l'idea che è stata sviluppata in tante università inclusa delft è quella del cosiddetto value sensitive design cioè il punto giusto è la fase della progettazione non è prima perché prima non abbiamo informazione e non è dopo non è la fase dell'implementazione del test perché a quel punto ci sono interessi ci sono investimenti ci sono canali ormai consolidati ed è difficile cambiare direzione e l'idea è molto semplice a parole molto difficile in pratica bisogna avere una prospettiva di design anche in filosofia e questa è una rivoluzione culturale per la filosofia anche perché la filosofia ha sempre avuto una parte importante della filosofia ha sempre avuto un'idea di filosofia come riflessione cioè la realtà esiste e la filosofia la analizza la studia la critica ma la filosofia come attività proattiva di produzione è qualcosa forse di meno di preesistente ma meno dominante nella nostra cultura umanistica quindi fare sì che anche i filosofi acquisiscono una prospettiva di design di progettazione che è più presente forse nel diritto nella politica sotto forma di design istituzionale design di istituzioni di regole di sistemi di norme eccetera il terzo punto interdisciplinarità l'abbiamo già detto in tutte le salse l'analisi degli stakeholders e dei valori anche questo è molto importante e perché dare per scontato che gli ingegneri o i manager debbano poter formare dare forma la nostra vita attraverso gli edifici le forme di comunicazione le forme di trasporto soltanto sulla base di quello che loro considerano buono utile e giusto dovrebbero comunicare forse di più non solo con i filosofi che a loro volta possono avere le loro visioni idiosincratiche della realtà ma col pubblico con le persone che verranno poi influenzate coinvolte nell'uso di queste tecnologie eccetera e quindi acquisire una visione ampia del concetto di design di progettazione non solo tecnica ma istituzionale sociale complessiva ed è per questo questo poi odio citare spider-man però questa è una cosa che usiamo con gli studenti il senso poi profondo di tutto questo che poi è Voltaire detto tradino la citazione Voltaire ma gli studenti preferiscono pensare che sia spider-man più potere si ha più responsabilità si ha quindi questo è un po' il motto cioè gli ingegneri come gruppo formano il mondo danno forma la realtà e hanno una grande responsabilità di farlo in un modo che sia benefico per la società e soprattutto che rifletta le esigenze della società e delle persone che sono coinvolte come si fa vediamo poi le cose più più pratiche ci servono istituzioni ora a Delft da 25 anni c'è un'intera facoltà che si chiama Technology Policy and Management che è dove lavoro TBM e che è un ibrido molto interessante c'è un'intera facoltà che assomiglia forse alla cosa più vicina che c'è qui ingegnere gestionale però è molto più ampia di così perché hai un lato ingegneristico che sono sistemi quindi sistemi informatici sistemi energetici sistemi di trasporto eccetera c'è un lato di scienza sociale diritto teoria dei giochi eccetera che ha a che fare con i sistemi sociali complessi e c'è un lato che ha a che fare con tutta la dimensione normativa dell'ingegneria quindi economia sicurezza safety and security e filosofia noi siamo là dentro Values Technology and Innovation è un dipartimento con una sezione di filosofia quello che voglio dire è che servono istituzioni ma una volta che le istituzioni partono poi le cose funzionano cioè non pensiamo di star facendo una cosa rivoluzionaria dove serve le persone già hanno sensibilità per queste cose gli studenti sono interessati i politici sono interessati le aziende sono interessate però serve che ci sia un'istituzione forte che spinge queste collaborazioni quindi bravi Sust bravi Scienza Nuova non sono io a doverlo dire ma sono molto contento da torinese di vedere che sta succedendo anche a Torino e mi auguro che le cose vanno avanti speditamente questo è un esempio il governo olandese ha visto che a Delft c'è un dipartimento di etica e tecnologia il ministero dei trasporti voleva prendere una posizione su questi veicoli autonomi da un punto di vista più ampio sociale politico etico è venuto a Delft ha detto c'è qualcuno qui che si occupa di queste cose ho detto ma guardate ci sono io se proprio non vi fa schifo ho detto va bene ok e mi hanno chiesto di fare un libro bianco sulle questioni etiche dei veicoli autonomi il ministero l'ha caricato sulla sua pagina delle ricerche scientifiche collegate alle attività del ministero e poi come ormai succede oggi ho saputo da twitter per un tweet di un personaggio del ministero che era venuto ad assistere a una conferenza dove partecipavo che a un certo punto questo white paper era il documento più scaricato dalla pagina del ministero quindi come dire l'interesse c'è le persone ci sono le capacità ci sono bisogna solo mettere tutto insieme e farlo funzionare che non è una cosa facile anche dal punto di vista della ricerca Juan Carlos De Martín citava prima il progetto europeo i fondi per responsible innovation in Olanda c'è un programma analogo del Dutch Research Council a un certo punto ho fatto quello straniero che non si ricordava la parola ma in italiano non saprei come dire insomma il consiglio nazionale delle ricerche olandese dà dei fondi esattamente sullo schema come l'Unione Europea questo è il nostro progetto e ci sono due ingegneri siamo tutti di Delft due ingegneri due filosofi due psicologi e abbiamo dei fondi per fare ricerca per tre anni su questo progetto in modo interdisciplinare e ci sono aziende che sono interessate e danno il contributo e ci sono i governi le agenzie del governo che partecipano come dire se la cosa parte poi l'interesse c'è anche a livello politico e economico almeno per la mia esperienza in Olanda ma sono sicuro che sia lo stesso anche in Italia l'Italia è un paese più grande avrà problemi politici e economici diversi da quelli dell'Olanda ma anche risorse diverse e quindi sono sicuro che anche qui potrebbe funzionare veniamo all'insegnamento come funziona da vent'anni a Delft grazie alla presenza di questo dipartimento dentro l'università tecnica ci sono collaborazioni per insegnamento di corsi di etica e filosofia dentro il curricula di ingegneria e i corsi sono strutturati con lezioni ma tutorials la cosa più importante gli studenti devono essere guidati è la prima volta che fanno un corso del genere non gli si può dare il pacchetto qua c'è il libro qua arriva il filosofo fa la lezione studiateci vediamo all'esame non funziona devi seguire gli studenti devi farli lavorare in gruppi piccoli devi farli scrivere piccoli saggi seguirli nella produzione di piccoli saggi e devi ultimo punto sviluppare i materiali insieme agli ingegneri non c'è via d'uscita i professori di ingegneria conoscono i loro studenti conoscono i loro polli come si dice e se tu parli con loro ti dicono se tu arrivi qua e gli fai la lezione di filosofia questi mettono lo screensaver dopo 5 minuti e li hai persi devi usare degli esempi che parlino al loro interesse devi fare dei casi di studio che loro riconoscano come parte della loro professione quindi è un lavoraccio per tutti per i professori di ingegneria parlare con i professori di filosofia sedersi a un tavolo spendere ore a decidere insieme i casi gli esempi che possono funzionare nel corso c'è stata una grande evoluzione nell'ultimo anno una volta la cosa era un po' a macchia di leopardo sulla base delle iniziative il singolo ricercatore aveva il contatto col singolo master si faceva il corso a queste sole facoltà si faceva il corso non starò a dirvi le sigle anche perché rischiare di non ricordarmele tutte si faceva il corso specifico a ingegneria aerospaziale perché c'era il professore ingegneria aerospaziale che era un buon contatto quindi era un po' lasciato all'iniziativa dei singoli professori poi l'anno scorso il board dell'università ha detto vabbè iniziamo a abbiamo già un sacco di cose che vanno avanti iniziamo a dare una struttura più sistematica e decidiamo che dall'anno prossimo sia da quest'anno tutti i master devono avere almeno un corso come diceva Juan Carlos come in molte altre università europee devono avere almeno un corso di filosofia etica quale che sia poi decidiamo si dà libertà di decidere come quale ma non puoi laurearti se non hai fatto almeno un corso che è veramente già una cosa minima e piccola secondo me lo sviluppo più interessante è stato questo che allora abbiamo detto questo però vale per i master cioè la laurea specialistica ma però è ancora più importante la laurea triennale perché lì all'inizio dove veramente gli studenti iniziano a farsi un'idea della disciplina allora secondo me il lavoro più interessante più difficile che stiamo facendo è quello nella triennale nei bachelor perché anziché fare il corso singolo stiamo cercando di dire però il problema del corso singolo qual è? che poi può anche per quanto tu lo fai adattato all'interesse degli studenti per quanto lo fai eccetera è un corso che lo studente medio può pur sempre considerare come l'ora di ginnastica o l'ora di religione con rispetto parlando secondo per quale delle due cose avete più rispetto però può essere sempre una cosa unica che non è integrata dice vabbè però poi il mio studio è poi un altro poi c'è sto corso che va bene allora l'idea è quella di inserire piccoli pezzi di insegnamento di filosofia e di etica in tutti i corsi cioè anziché avere un unico corso e poi tutti gli altri corsi restano corsi di pura ingegneria tu dentro i singoli corsi di ingegneria hai un compito un pezzetto un pezzo dell'esame due domande nell'esame un piccolo saggio dove devi esplorare le questioni filosofiche etiche di quello specifico corso quindi questa viene chiamata learning line quindi un percorso di insegnamento un percorso di apprendimento che prosegue durante tutto il bachelor e alla fine del bachelor lo studente deve fare una piccola relazione conclusiva nella quale dice quali sono gli aspetti filosofici etici che attraverso i 20 corsi 10 corsi che ho fatto sono emersi e cosa ho imparato e come rifletto oggi come ingegnere impegnato anche nella società invece in questo modo una volta che tutto il lato più di base l'insegnamento di base di filosofia della scienza etica integrità della ricerca scientifica educazione alla diversità abbiamo tutta una serie di temi di base che vogliamo inserire nei bachelor una volta che possiamo contare sul fatto che gli studenti di bachelor hanno queste basi allora nel master poi facciamo i corsi specialistici dove specialistici significa una di queste cose questa è la lista dei desideri al momento ne abbiamo attivati 4, 5, 6 ma questa è l'idea cioè potenzialmente qualsiasi tema che voi potete pensare come tema rilevante dal punto di vista tecnico ha ovviamente una dimensione etica politica ci sono dimensioni etiche e politiche ovviamente nel clima oggi questa è quasi un'obvietà e di nuovo forse fin troppo tardi per dirlo ma nella gestione dell'acqua nella gestione dell'energia nella gestione del rischio ovviamente informatica robotica ma biotecnologia tecnologie mediche architettura qualunque di queste discipline ha una fortissima dimensione filosofica politica etica implicita che va resa esplicita e analizzata e studiata io faccio quello di etica dei trasporti per via di questa ricerca sui veicoli autonomi eccetera e quindi questo è poi l'obiettivo finale ogni master student deve aver fatto al bachelor quel percorso formativo e poi nel master si sceglie il suo corso specifico che può essere un corso generale un corso specifico questo richiede ovviamente standardizzazione bisogna parlarsi con le facoltà decidere ma quanti crediti combinare questo è il lato sporco del lavoro che va fatto ma è fondamentale sedersi al tavolo con i direttori dei vari dipartimenti e stabilire a che punto fanno il corso tra quali rosa di corsi gli studenti possono scegliere come fare in modo che gli studenti sappiano che ci sono questi corsi eccetera eccetera e per questo questo per farvi vedere qua sto facendo è registrato e questi sono proprio i fogli nostri interni cioè noi come dipartimento a un certo punto abbiamo indicato una singola persona che è responsabile di andare a collaborare con una singola facoltà cioè il delegato cioè noi abbiamo il dipartimento di filosofia e al dipartimento di filosofia c'è un delegato per andare a costruire insieme a ciascuna delle altre facoltà il percorso formativo io sono responsabile per esempio a IWI che è computer science ma è fondamentale cioè questo è veramente il lato proprio sporco del lavoro cioè tu devi mandare dieci mail finché non trovi la persona alla facoltà che è interessata a collaborare a sedersi al tavolo a disegnare il corso insieme non c'è via d'uscita quindi prima di arrivare alle conclusioni vorrei provare a mostrarvi il sito che ci riesco se riproviamo ah 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 ce l'abbiamo fatto questo è il sito che abbiamo fatto quest'anno e come vedete riassume tutte le attività di insegnamento che il nostro dipartimento propone dentro l'università di Delft e spiega perché fondamentalmente facciamo quello che facciamo spiega chi siamo puoi andare a vedere dei singoli corsi ci sono delle i programmi dei corsi ci sono dei dei protocolli che le varie università possono usare per provare a instaurare dei dei percorsi analoghi a quelli che abbiamo fatto noi ci sono delle lezioni video c'è un po' di tutto insomma e vi consiglio di andare a dare un'occhiata ci sono citazioni mozzafiato dei nostri colleghi e via dicendo insomma quindi questo è un sito che vi consiglio di frequentare la cosa specifica che secondo me abbiamo a Delft che io trovo molto interessante è quella del collegamento tra torniamo alle slide e il collegamento tra ricerca e formazione cioè di nuovo se tu hai dei percorsi di ricerca completamente sganciati e poi chiami l'esperto a venire a fare il corso e allora l'esperto deve inventarsi su due piedi collegamento non funziona se tu hai o può funzionare ma nella mia esperienza funziona meglio se tu hai delle persone che fanno ricerca in etica della tecnologia in filosofia della tecnologia gli chiedi di fare un corso vengono a raccontarti la loro ricerca e gli studenti lo sentono che stanno raccontando una cosa per cui hanno interesse passione competenza anziché cercare di adattare un corso a delle esigenze sulla base di ricerche che sì forse hanno a che fare o meno quindi il collegamento tra ricerca e formazione richiede ovviamente investimenti istituzionali eccetera eccetera non sono io a dover dire queste cose richiede che ci sia un tetto un posto fisico dove stiamo dei fondi delle istituzioni dove stiamo seduti insieme parliamo e ci capiamo e condividiamo dei linguaggi delle idee dei progetti perché di nuovo se lavoriamo ai due capi della città e ci vediamo una volta all'anno sì può funzionare ma è difficile richiede percorsi strutturati richiede corsi su misura come dicevo richiede integrazione nei curricula e non soltanto il corso paracadutato dall'esterno e tutto questo secondo me nella mia limitata esperienza una volta che è attivato inizia ad attrarre una massa critica di interesse pubblico politico sociale anche economico e quindi può anche avere un ritorno diciamo in vari modi ma il ritorno più importante dal mio punto di vista è quello di riaffermare e riaffermare come è stato detto in una precedente relazione rifar sì che nei nostri percorsi si rifletta l'idea per la quale l'ingegneria è in fondo una disciplina umanistica molto più di quanto si pensi perché in fondo ambisce che se ne accorga meno che ci sia consapevolezza meno una disciplina che ambisce a modellare l'umanità e la società e la politica e quindi prima questo fatto viene riflesso nei nostri percorsi di ricerca e formazione secondo me meglio è grazie many thanks to professor Santoni de Sio super interesting philosophy of education and experiences at Delft thank you so much now it's time for and we are perfectly on time for the fourth of our lectures from our guest from abroad and it's my pleasure to invite Dr. Olivier Boin who is going to the podium his point of view will be slightly different compared to the previous three presentations because the first three presentations were as you heard about the experiences of humanities and social sciences in a technical school now we will have the point of view of somebody who I first met when I was at the Collège d'études mondiales in Paris in 2016 the point of view of somebody who has extensive very very advanced international understanding of how research is conducted in many different settings so maybe his main appointment right now of the many is the director of the Foundation Excellence Laboratory which is the network of Institute of Advanced Studies in France and he's a super expert of this specific topic I heard a wonderful presentation a few months ago here in Torino invited by Professor Maurizio Ferraris but so the point of view will be how is research conducted at the international level at the highest level and you will hear the stress of the importance about multidisciplinarity you already heard it a lot essentially the whole morning is about interdisciplinarity but you will hear a slightly different tack I will not try to summarize his curriculum which is outstanding like all other speakers I will only mention that he's been deeply involved in recent years in works with very prestigious scholars with titles like Rethinking Society for the 21st Century I remember he was talking about that in Paris three years ago and the Manifesto for Social Progress Ideas for a Better Society so even his research current activity are very much in line with the topic of our meeting today so thank you Dr. Buen for being in Turina grazie buongiorno direi qualche parola in italiano poi I will switch to English to be more I think understandable ma vorrei 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 ringrazio 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 il Rettore Saracco ringrazio Juan Carlos per l'invito vorrei anche salutare il Rettore Aiani e gli amici dell'Università di Torino tra cui Maurizio Ferrari e Stiziana Andina e vorrei complementarmi con voi su queste due iniziative di Scienza Nuova e di Sust che si collegano e che io inserisco un percorso un contesto direi europeo internazionale di A innovazione pedagogica e B di sviluppo interdisciplinare della ricerca quindi sono due iniziative importanti e mi auguro che queste due iniziative possono andare a buon fine la cosa che posso dire legando la mia prima affiliazione di direttore della fondazione della rete degli istituti di studi avanzati in Francia sono il segretario generale di una rete europea di 24 istituti di studi avanzati in Europa e sono anche il presidente dell'European Alliance for Social Sciences and Humanities quindi una parte della mia relazione avrà due parti la prima è legata a quello che abbiamo imparato dagli istituti studi avanzati nell'ultimi anni in integrating and so I will start speaking in English now because otherwise it's my friends know that then when I start to explain in Italian something that I work with in English it's it's an awful mess so I already switched to English so it will be much easier for you so the first part will be on institute to have and study and lessons and some examples because the idea is to be concrete and not describe in two general terms how we can work and translate words into deeds when we talk about interdisciplinarity and what I call when I name real interdisciplinarity i.e. interdisciplinarity between heart sciences and technology and social sciences and humanities and before I get started on trying to figure out I will talk mostly on about research but obviously there are implications for higher education and for society at large because as it was mentioned by the rector Eben Juan Carlos in the introductions we're talking about societal challenges we're talking so societal challenges mean that human beings and groupings of human beings are key to 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 these questions and to these issues to be solved not only through science scientific advances and technology but also through many aspects that are related to human beings and societies they live in and here I would like to maybe differentiate a little bit between humanities on the one hand social sciences the added value of both because we've been talking about SSH in general terms and here I think you have specific dimensions that are dealt with by social sciences and we there have been incredible advancement of science in methodology and outcome of the research on social sciences economics I mean economy sociology political science anthropology knowing more about institutions norms organizations governance collective behaviors comparativism collective uses all this is highly relevant to all scientific and technological advances and how we'll be able to deal with societal issues so this is for social sciences but for humanities like knowing and understanding the human the intelligence the interpretation emotions language cognition fiction experience I could continue ethics rhetorics values alterity all this is you cannot say that you could concentrate only on social sciences and say well we're not interested in the second part of it or you could not concentrate only on the I would say the humanistic dimension and not deal with social sciences so I think it's really the importance of both sides I would say of social sciences and humanities that are needed if we really want to tackle in an effective manner the problems not of tomorrow but the problems of today and the problem of tomorrow so my before I get started I would like to have like one concluding but concluding introduction remark it's not needed only and I really appreciated your talk on ethics and I think it's extremely important and what you describe is absolutely fantastic but I think we cannot mobilize social sciences and humanities only to understand ethical issues or socio-political feasibility of technological advances or to deal with I would say intercultural diversity these are absolutely needed and important themes that are related to science and technology advances and societal issues there are interfaces very important ones but it's not only that it's not only to be the icing on the cake and arriving and say okay but we need to understand diversity or charity we need to understand ethical issues and we need at some point to understand how humans and societies will use the technology and the science to produce so it's not only about sociopolitical feasibility it's really about understanding the drivers of innovation and how people will react to on many at many different levels from the individual perception understanding of what's going on to more collective behaviors and this I think it's an important it's not only to deal with one issue but to really understand that this has to be dealt with together and what we've been trying to do in Institute Travel and Study is to provide a space where you can actually co-design and there's something that I had written before you mentioned design I think we need to co-design the research agenda it's obviously made of its end it's with social sciences and humanities and science and technology it has to be in order to avoid the temporality problem you mentioned the too soon or too late you have to co-design things you have to co-design the research you have to co-design the high education then these are important questions in terms of when do you think it's best to actually introduce this type of B disciplinarity or multidisciplinarity in the curriculum and now there are very interesting experiences in the United States of having bachelor in humanities and sciences because you need at some point to have to master at a certain level it's not about culture general it's about like being able to understand modes of inquiry and we've been in social science humanities making a lot of headways and progress over the past quarter century on refining and sophisticated or sophisticating the way we do research so sorry about this long introduction but I think it's just to frame it in a slightly different way it's not only about one specific question for which we need to mobilize social sciences to understand the collective views of it or the social political feasibility or humanities because you need to answer a moral ethical or value problem but I think it's a more general meshing or mixing of both and Institute of Haven Study has been trying to be we call that safe havens but be places we can actually experiment how you do interdisciplinary or promote and foster interdisciplinary thinking because the idea is to complement what can be done at the university level or within research organizations they can be thematized they can have they can be disciplinary the idea is to have a place and I won't I suppose you know how to read so I won't read the slides I will comment what you have on the screen but the idea is really to try to offer experimental spaces and to promote an open approach to research and for this you need a space and you need time I was talking this morning with someone say well I was there was a conversion to humanities I said but conversion follows conversation so you need to have a long conversation taking place in order to understand epistemology to understand methods of inquiries research methods methodology in order to embark into something that would be different from multidisciplinary research or pluridisciplinary research but that would be truly an interdisciplinary research and we know because of the VUCA world if I want to take your terminology it's that we need to have combined approaches combined approaches that can lead to a fresh understanding or fresh view at familiar objects or new objects and that's something that we absolutely need to do and to provide the space time and possibility to really experiment because it takes time you know I'm an economist if I want to work with someone within computer science I need to understand how it's not the idea of having a collage of what I think and what he thinks or what she thinks but the idea is to really understand how we can proceed in understanding better each other I won't become a computer scientist he may not become an economist but at least we need to find common ground common terms to define new objects so it's co-design and this institute five and study throughout the world now you have like 37 institute five and study I would say even more now because there's one in Mexico and one in the University of Ghana and I'm responsible for the massive concentration of dots in Europe the 23 now 24 institute five and study in Europe and these institutes have been trying to implement what I've been describing before offer space and time both are important to convey this dialogue across disciplines across in some cases because it's highly international across intellectual traditions because also some sciences are highly integrated and they kind of intellectual traditions do not matter anymore like in my science in economics the fact that you are French economist is not very different from being an American economist or Latin American economist even though you have differences we mostly work with the same methods and we produce the same type we use the same tools in other sciences it matters and it's interesting to have like a discussion across disciplines but also across intellectual traditions so I've listed a few interesting initiatives that we may wish to consider when we're discussing about promoting interdisciplinary research and fully integrating social sciences and humanities with STEM disciplines and trying really to make headways so I've listed three institutes of my network that are really trying to promote this approach and I don't have time to describe at length but all this really produces very interesting results in terms of originality and impact which are I think it's really innovative research on the one hand and it makes real impact on public and private decision makers as we usually put it when we talk about outreach and impact so the first one is an old institute they celebrated their 50th anniversary last year it's the Center for interdisciplinary research at Billfeld the Center for interdisciplinary studies so they started 50 years ago more than 50 years ago and what they do they convene groups for six months to two years they have conveners like in the ERC terms you'll be principal investigators and they convene a group a multidisciplinary group an international group across sciences this is not you know group with you know chemists and physicists and mathematicians these are I would say across the ails of the plane so the idea is really to have a blend of disciplines and of scholars obviously all of high individual excellence that's something that we should always keep in mind and I'm sure at the Politecnico you have absolutely this in mind the idea when you embark into industry in one discipline you want to have people who are good in one discipline but maybe in more than one disciplines so individual monodisciplinary excellence is absolutely needed but if you want to go into this journey you need really to develop some kind of interdisciplinary dialogue so what they do basically they convene this group there are various formats as you may have seen in the other slide the formal and informal meetings but basically they have a theme so I took three of them which are relevant and these are mixed groups of SSH scholars and science and technology scholars and they have like six months to two years to discuss to produce and usually what they produce they produce publications but also they produce research projects and produce experiments and this is really interesting because the output of this is not only in the academia but also has impact beyond academia the second example and I could be we could discuss maybe later over lunch about some of these characteristics the second the colleagues of neighbors of Lausanne at the Collegium Helveticum in Zurich they have a very specific project it's a five year project three professors of ETA the Polytechnic of Zurich three colleagues from the University of Zurich and one colleague from the University of the Arts of Zurich and they work for five years together what they do is they spend 80% of their time working and teaching in their field and they have 20% requirement to work at the Collegium every Friday and the first year out of the five so they have a big theme they had emotions then reproductability and now it's about digital societies so it's a group you have historian you have computer scientist you have a philosopher you have someone working on gerontology you have an economy so you have a group of seven people the first year is devoted only to conversation presentation of papers discussing trying to figure out the common ground and at the end of year one they write sub projects under the big theme and it works absolutely well they are well funded by the Swiss Research Council all the applications they make are really but you need time the first year it's a five year project you need interdisciplinarity is not something that you can have off the shelf and say I put this one and this one and then they will work together you really need to figure out and that's in my previous slide maybe you have read that I mentioned one of the themes is about the fact that scholars curiosity driven research scholars will pair but you need to have some kind of managed serendipity it sounds like an oxymoron but you need to really create the conditions for this to happen and in Zurich you can imagine that polytechnic of Zurich and University of Zurich and very serious universities so if they agreed on this joint effort this means that they know that they need time they need space they have a very beautiful it's a former observatory of Zurich that is the house of the Collegium Helveticum and it's really important that you have scholars from different disciplines and different thematic research working together and have the time to do this and I mentioned a more recent experience at the Institute d'études avancées in Paris they don't have a group a fixed group of colleagues so you don't have a fixed team but what they do they invite on the theme and this since 2016 has been brain culture and society they invite four to six individual scholars to philosopher a neuroscientist they invited a neurosurgeon with an ERC grantee working on the philosophy of cognition and this is extremely interesting and philosophers and you put together people who have different scientific interests and you give them the time and the possibility to work on this together with the help of the institute and then to be able to expand their thinking and it's usually they invite people for a semester or a year but this is translated into a multi-year project and here two other interesting examples are about networking with this institute study interesting things take place within the institute but also a very interesting thing takes place among or across the institutes so I just mentioned two initiatives one is the intercontinental academia under the university-based institute for event study network it's a one-year project it's a larger team and they have two host institutes and 10 to 15 institutes partnering and they have a big theme with mentors like the last episode on laws rigidity and dynamics that five Nobel prizes as mentors plus 10 very high level professors to discuss with a group the partnering institute send one or two assistant professors for this and so you have a group of 25 to 30 assistant professors working together from very different disciplines and very different geographical backgrounds and they work with a group of high level mentors and then they work together and the output of this is absolutely outstanding in terms of publications in terms of MOOCs in terms of projects that actually develop and impact the university or academia but also beyond academia and the next one will be on intelligence and artificial intelligence because to some extent you cannot work on artificial intelligence if you don't fully understand what intelligence human intelligence is something that is often bypassed by a lot of institutions or research initiatives and the last one is about a new something that will start in 2020 and Shenzhen Nova I think will be part of this initiative we've called that constructive advanced thinking networks these are mostly to help early career scholars to develop interdisciplinary projects and there's no topic it will be more bottom up or blue sky project but the idea is really to give an incentive for young scholars because we know recruitments in research organizations and university follows more disciplinary lines so they don't have huge incentives to embark into interdisciplinarity but the idea is to give something that would be highly visible and give them the possibility beyond the disciplinary research to expand and explore new territories so these are I think very interesting initiatives at the research level but all these initiatives do include master students PhDs and postdocs because the sooner in a sense the better the sooner you encounter the added value of this interdisciplinary thinking the better for your academic or research career because then you will know you will understand you will fully understand that this is something that you have to do and it's really a game changer so what we try to do in all these initiatives here and there is really to include early career scholars or even graduate students or PhD students in order for them to be really inserted in this context of developing and fostering interdisciplinary thinking. So the second and shorter part of my talk if I want to keep into the 30 minute rule and not be the only one to be asked to stop by Juan Carlos is about the European context for interdisciplinarity. It's I think interesting because you have a lot of expression of interest at the commission level and Brussels once a week so they're always talking about interdisciplinarity but what is really interesting is that they're not really performing it. They all considered as you know in Horizon 2020 there were seven big societal challenges and they've been trying to work the big theme was to embed social sciences humanities in research and then it moved into SSH integration into research. But it basically failed and they recognized that after the evaluation in 2014, 15, 16, and 17 they said basically it doesn't work. And why it doesn't work is not that SSH research communities are not up to the challenge to say so but it's because we have three level of problems. Framing the framing of the research proposals are not based on co-design. They are based on kind of monodisciplinary approaches of the problems and then they put a little bit of SSH. And it's difficult to mobilize communities to answer these calls on health, on climate, on energy, on food and alimentation. All this you already understood if you mix all these big themes with what I've said about the potential of social sciences or the potential of humanities. You figure out that there should be social sciences and humanities almost everywhere in all these challenges and in fact not. And the percentage of SSH in the six challenges beyond the SSH intensive challenge under Horizon 2020 is 1.2%. So this means that in the funding, the 35 billion euros devoted to the seventh research challenges, only 1.2% is going to SSH within interdisciplinary research. Which is really insufficient and they recognize that. But it's not only co-design or the framing, so then it translates to the writing of the call and then also in the assessment. And what we've seen, we've done at the European Alliance for Social Sciences and Humanities, we've done a survey of who assess the project submitted in the other clusters about health, science, health, climate, energy, mobility, smart cities and so on. You don't have a single SSH scholar. This means that it's difficult to appraise or to assess the added value of an SSH contribution if you have no one in a group of 15 to 20 high-level scholars who is able to understand what would be the added value of this contribution. So it's rather unsuccessful and we will try to figure out how it can work in a better way under Horizon Europe, the next framework program 2021-2027. The instrument for interdisciplinarity, en principe, is the ERC synergy. So they had a very unsuccessful launch in 2012-2013 with a 2% success rate of a huge amount of people really pissed off by the fact that you have a very low success rate and basically you had very, very limited real interdisciplinarity. You had groups, so they were giving up to 10 million euros for a team, but this was a team on physics and then a team on chemistry, then a team on biology, but no crossing over. So they stopped that in 2013 and they restarted that in 2018 with more money, so a higher success rate, 27 granted. But you have an improvement in the way they've been able to assess this project, but still very, very limited interdisciplinarity. So my final slide is about how can we, in this context of supporting, because if you talk to the Commissioner Moedash, if you talk to Jean-Éric Paquet, the new DG for research innovation, they say, no, we need interdisciplinary research because this interdisciplinary research will lead to solutions for the big challenges. Now, they don't call that challenges anymore, but clusters, health, digital, energy, climate, mobility, food, alimentation, bioeconomy, environment. All this has to have a strong SSH implication. But how do you do that? This will be, I think, a very interesting question, how you will be able to, how they will be able to address the issue of co-design and assessment of these projects. But this is crucial, and now they, with the five instruments, or the four instruments that they have, clusters, missions, joint European partnerships, and the knowledge and innovation communities, they know, and they will try to figure out in the coming year, how you can really create this blending of disciplines in tackling these big issues. So, this is a major source of, I would say, not concern, but only, but also of activity, to try to figure out what would be the recipe, because no one has a good recipe to channel this towards real interdisciplinary research. So, there will be, between now and in one year from now, a long discussion on how to try to improve and give the incentives to various communities to work together. And I conclude with these opportunities beyond Horizon Europe. In Horizon Europe, as you know, we'll see when the new parliament, European parliament, will start its work in July, but it's supposed to have 100 billion euros in Horizon Europe, an increase of 40% from the 70 billion euros of Horizon 2020. So, it's a major increase, and it's a major investment, but we can also look beyond Horizon Europe and try to figure out how we can develop some multilateral state funding on key research priorities, and here again, for example, there are some interesting Franco-German research initiatives on a few questions, and I think it should not be bilateral, but multilateral. I think, also, we would need to partner with large European and international foundations, because they can complement the way you undertake research. And finally, obviously, we need to find new ways of collaborating with industries on these questions, because, as you rightly mentioned, when you actually deliver and you start, I was about to say engineer, when you engineer this interdisciplinary thinking, they are absolutely thrilled and interested, and they say, this is exactly what we want. So, the problem is that universities are not, even they're doing a lot of outstanding things, they're not very good at fostering interdisciplinary thinking. Industry is not very good at that. So, we need to find a way to get this started, because then it's a highly likable outcome and very well-valued output that is produced in this context. Thank you. Thank you.